o spirito infinito ricarica il mio corpo con la tua energia cosmica ricarica la mia mente con concentrazione determinazione e ricarica la mia anima con la tua gioia sempre nuova o eterna giovinezza del corpo della mente timora in me per sempre per sempre per sempre namaste grandi anime vorrei presentarvi gli esercizi di ricarica di paramanza yogananda che lui ha sviluppato e portato in occidente dall'india per ricaricarci di energia cosmica God's power, vitality, good health and strength flow through me, flow through me, flow through me God's power, vitality, good health and strength flow through me, flow through me, flow through me God's power, vitality, good health and strength flow through me, flow through me, flow through me Per capire bene gli esercizi si devono capire due principi Il primo principio si chiama più forte la volontà, più forte il flusso di energia Il secondo principio invece è tendi con volontà, rilassa e ascolta Gli esercizi di ricarica sono anche un potente strumento per trasformarci dal punto di vista spirituale dal punto di vista dell'anima Con questa pratica avanzata che Yogananda e anche Swami Kriyananda hanno insegnato Con l'attenzione mandiamo energia e con il rilassamento ritiriamo energia Questo ci porta proprio allo yoga più profondo Ora pratichiamo insieme con Vaini Avambraccio sinistro col pugno Spiritualizzati perché ti senti come un essere di energia Non di corpo fisico, dirigi energia non la tua, quella spirituale Vibra e quando rilassi ritira l'energia come un fiume che cambia direzione Questa pratica della ricarica delle venti parti da seduti si può fare non solo in ufficio quando hai bisogno Ma in qualunque momento della giornata Quando pratichi chiudi gli occhi e prova ad attingere il verde, la forza della natura, dell'aria e avrai un effetto benefico In qualunque cosa che tu fai nella vita hai un sacco di energia, la sai dirigere con la forza di volontà e tu arrivi prima a qualunque cosa che tu vuoi fare O-O-O-O-M O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Grazie a tutti.